buonasera buonasera a tutti bentornati nuova puntata di radical nick un nuovo lunedì insieme all'insegna della cultura la stagione la sesta che va via via concludendosi avremo ancora questo lunedì è il prossimo da passare insieme qui sulle frequenze virtuali di radio brown the rocks e quindi ho preparato due ospiti assolutamente speciali quello di questa sera è un nuovo carnista insomma uno dei tanti dopo carnistiche che abbiamo avuto tutti voi ricorderete da alessandro pedretta a stefano spataro gianni de martino e non solo ma parliamo di un nuovo carnista di prestigio grande autore edito appunto dalla nuova carne che ora è anche casa editrice lo sappiamo l'abbiamo detto parlo di alessandro manca autore di uccello nel guscio la letteratura beat italiano questa è una grande antologia io saluto il suo autore ciao alessandro benvenuto a radio brown the rocks ciao grazie dell'ospitalità buonasera a tutti grazie delle tue belle parole di introduzione allora libro che ha visto la luce ieri lo abbiamo detto la nuova carne edizione che a questo punto appunto esplora e si apre anche al mondo antologico il mondo della saggistica al mondo della scoperta della grande letteratura beat della quale tu sei un vero esperto come prassi da queste parti lascierei che fossi tu a introdurci la tua opera perché un'opera complessa un'opera che ha una fase di studio molto ampio e molto importante dietro di sé e che è il culmine appunto di anni e anni di lavoro su un argomento veramente affascinante prego alessandro grazie è un'opera complessa e soprattutto molto lunga stiamo parlando di un volume di 500 pagine ringrazio i ragazzi della nuova carne che ci hanno creduto davvero questo volume è un po il seguito per certi aspetti di una mia ricerca che è cominciata anni fa che ha prodotto un libro con un dvd che si chiamava i figli dello stupore questa rappresenta un po la chiusura di una ricerca che all'incirca è durata una quindicina di anni nei meandri di un mondo poco poco guardato cioè la letteratura italiana underground degli anni 60 e inizio 70 per certi versi la dicitura underground è una dicitura un poco più corretta rispetto a beat sicuramente ci sono molte connessioni con la big generation americana anche perché tanti di questi ragazzi che scrivevano negli anni 60 nelle loro poesie citano in particolare ginsberg e che eroac e aspetto per me profondamente interessante cercano di abbracciare quella novità stilistica prosodica che arrivava dagli americani questo perché quei ragazzi che negli anni 60 scrissero queste poesie parliamo soprattutto di poesie ma non solo abbandonarono in maniera coraggiosa e consapevole molte di quelle che erano le regole scritte non scritte dell'essere italiano mi spiego meglio se da una parte a livello più umano e sociologico abbandonarono quello che era il concetto di famiglia tradizionale abbandonarono il riferimento ai classici partiti politici abbandonarono il riferimento alla chiesa abbandonarono un ideale legato al senso del lavoro dall'altra parte abbandonarono quantomeno rifiutarono in maniera significativa anche una tradizione letteraria e poetica italiana che sentivano quantomeno distante o quantomeno poco adatta alla loro vita che era una vita di drammi e quindi per certi aspetti beat è una parola adeguata meglio forse affiancarla anche alla dicitura underground perché molti di questi poeti parlavano di letteratura underground vita underground editoria underground è un concetto particolare quello di underground a volte anche come dire abusato usato fuori luogo da chi si occupa di letteratura in maniera superficiale ed è stato ginsburg e citato che ero a che sono stati i capostipite d'oltreoceano però è stato un periodo temporale che è immediatamente successivo a quello di ginsburg e e che ero a perché parliamo tutto degli anni 60 cento fino all'inizio degli anni 70 quindi con un ritardo in realtà dalla big generation americana dalla quella che è diventata l'underground americana poi ha preso diverse strade oltre quella vita infatti viene a specificarlo non così ampio cioè si parla sempre del ritardo di circa vent'anni no con con gli stati uniti mentre invece questa questa cosa che hai detto mi affascina molto perché in un periodo insomma dove non c'erano ovviamente social network non c'era internet c'era malapena qualche telefono a gettone forse ecco questa cosa è riuscita a diramarsi così velocemente con così poco scarto temporale come come una malattia e credo che malattie sia il termine che che ero usa proprio in una poesia per definire il movimento come te lo spieghi uno scarto temporale così breve in realtà allora lo scarto temporale se guardiamo i primi iniziatori italiani di questa nuova modalità di fare e anche di porsi di essere è di circa dieci anni perché la lettura che un po ha dato grande visibilità alla vita americana è del 55 quando ginsberg lesse urlo per la prima volta dal vivo l'anno dopo viene pubblicato il suo volume urlo altre poesie i primi significativi risultati diciamo italiani sono di dieci anni dopo che parlano del 65 66 c'è da ricordare un evento per la nostra cultura la nostra editoria fondamentale che vede lo sguardo e l'azione di fernanda pivano attiva cioè a fernanda pivano convince che il trinelli a pubblicare nel 1964 poesie degli ultimi americani quella fu la prima antologia in cui i lettori italiani poterono leggere una dozzina più o meno di poeti americani di cui alcuni classici passano il termine beat questo evento con anche la pubblicazione di sulla strada fece sì che i lettori più attenti che cercavano qualcos'altro e cercavano in qualche modo delle nuove fratellanze diverse dalla cultura molto letteraria italiana e io qui uso la parola letteraria con un senso di pesantezza con un senso di rigidità trovarono questi volumi in particolare quello che ho citato prima pubblicato da fei trinelli poesie degli ultimi americani senza quel volume pubblicato nel 1964 probabilmente ci sarebbe stata una una storia un po diversa perché molti di quei poeti che ho conosciuto come anche gianni milano di torino mi hanno raccontato dal vivo quanto fu importante quel volume e anche quanto più importante per chi abitava nel nord italia il rapporto sia dal vivo sia attraverso delle lettere cartacee con fernanda pivano questo rapporto che in qualche modo allargava le prospettive dell'italia in bianco e nero degli anni 60 perché non dimentichiamocelo il 68 non è ancora arrivato e solo due o tre anni prima lo scenario nazionale nostrano era profondamente diverso era profondamente in bianco e nero con anche pochissimi spiragli per un adolescente se non quelli imposti tutto sommato da una società tradizionalista quindi queste queste operazioni editoriali e di fatto il lavoro culturale di fernanda pivano fu decisivo aggiungo l'ultima cosa che riguarda qualche anno successivo rispetto agli inizi del del nostro underground fernanda pivano fu l'animatrice con allen gisberg e molti altri di pianeta fresco quindi questa diciamo connessione stati uniti d'america italia vide anche un frutto di una rivista molto importante portata avanti da anche con altissima qualità grafica rispetto alle fanzine in cui scrivevano altri ragazzi italiani che sancisce anche di fatto questa fratellanza di intenti di modalità e anche diciamo di cultura il senso ampio d'eterno ecco tu hai fatto bene a citare tra l'altro gianni milano che è autore anche della prefazione di uccello nel guscio hai usato un termine che ha stuzzicato la mia curiosità e mi ha portato a fare un paio di ragionamenti in questi minuti perché ci hai detto un genere di rottura con l'italia profondamente letteraria dell'epoca e poi hai usato la parabola del del bianco e nero no ecco tu hai avuto la possibilità la fortuna di incontrare alcuni protagonisti della letteratura del movimento underground italiano quelli che chiaramente sono ancora sono ancora in vita se non se non sulla scena letteraria ecco come è stato la o meglio non tanto l'approccio perché diciamo tra tra simili ci si riconosce mi verrebbe da dire ma come come è stato accolto ecco in un paese che forse si aveva già voglia di cambiare lo hai detto era prima del 68 ma era comunque un paese profondamente tradizionalista in alcune sue in alcuni suoi strati alcuni aspetti della società profondamente bigotto ancora confuso forse da dagli echide dopo guerra ecco come è stato accolto il movimento underground allora di fatto non è stato accolto provo a spiegarmi meglio se da una parte alcuni poeti che stavano intraprendendo una nuova esperienza con il linguaggio ebbero delle reazioni anche da parte del delle autorità pubbliche dei tribunali assolutamente chiare di censura per esempio questi poeti sulla scorta anche di alcune poesie del volume citato dell'antologia del 64 pubblicato da coltinelli con i poeti beat iniziano a inserire nei loro testi quelle che erano considerate delle parole vietate queste parole sono delle parole assolutamente di uso comune oggi come cazzo figa masturbarsi questo portò dei veri e propri processi per delle poesie pubblicate su fanzine che avevano una distribuzione assolutamente non non ufficiale anche con dei numeri relativamente bassi rispetto a alla cultura italiana dall'altra parte non vi è stata una seria riflessione da parte degli uomini che erano un po a capo del mondo culturale e letterario italiano se non quello che ha fatto fernanda pivano e pochi altri ascoltatori quantomeno attenti e curiosi non vi è mai stato un vero dibattito come invece altre correnti molto più codificate della letteratura magari la letteratura sperimentale hanno voluto e saputo creare questo anche perché questi stessi ragazzi non hanno fatto dei gesti significativi per aprire un dialogo culturale era come se queste persone fossero veramente animate da un aspetto di radicalità che li portava a riflettere a scrivere e a vivere ma non a impostarsi all'interno di un discorso culturale pubblico con le autorità che contavano in quel momento a livello culturale dall'altra parte adesso ho parlato un pochino degli aspetti diciamo poetici letterari di questo movimento e nei confronti dell'accoglienza ogni qualvolta i gesti di vita le manifestazioni pubbliche di gran parte di questi ragazzi in particolare sto parlando a ciò che poteva avvenire a torino e a milano quindi torino città molto più operaia con delle problematiche vicine a questo a questo tema e milano con l'esperienza di mondo beat si è visto un florilegio di manifestazioni pubbliche e anche la loro manifestazione finale nel campeggio ieri pamonti ha visto una chiara non solo censura che forse in questo momento è un termine un po sbagliato ma una chiara repressione da una parte il corriere della sera che era un giornale profondamente reazionario parlava di questi ragazzi e di quello che facevano in maniera lecita e consentita dalle leggi come qualcosa di inaudito nei suoi articoli il corriere della sera usava delle aggettivazioni per il nostro mondo contemporaneo inammissibili e quando questi ragazzi si fanno vedere nel nella modalità più pubblica non passano pochi giorni che il movimento tutto è fermato con dei tentativi molto molto chiari da parte anche delle forze dell'ordine quindi è come se una vera ricezione culturale non ci fu anche per la riottosità e per la tenacia di questi ragazzi che volevano essere e sentirsi parte della loro tribù non si pensavano come scrittori che dovessero diventare dei campioni della letteratura e questa è una grande diversità rispetto ai bit americani dall'altra parte ogni qualvolta vi furono delle manifestazioni pubbliche o uno scendere nelle strade chiaramente si è sempre visto da che parte tirava l'aria in quel momento storico ecco questo è interessante cioè il doppio binario sul quale appunto da una parte l'autorità e dall'altra forse anche la posso dire l'idea di di questi ragazzi ad essere sospettosi verso l'esterno e a non volersi aprire forse la cultura mainstream con quella dell'epoca ovviamente anche con degli ottimi motivi per carità è un aspetto interessante e dall'altra parte mi chiedo il movimento aggettiviamo sempre come beat underground in generale americano ha poi preso sbocchi sbocchi diversi allen gingsberg per esempio si è avvicinato molto a quella che è poi esplosa nella cultura hippie che eroac ad esempio per forse molto molto più tiepido ha preso affluenti diversi il movimento italiano come ecco dopo gli anni dell'avanguardia no dopo gli anni che tu prendi in considerazione arrivando nei 70 che direzione ha preso poi allora per certi aspetti è corretto dire che questi ragazzi e queste persone che scrivevano con questo sguardo si sono inammissate ancora di più mi spiego meglio se da una parte alcuni hanno preso la via del nordafrica per esempio gianni de martino con la fine dell'esperienza di mondo bit decide di passare una decina di anni in nordafrica dall'altra parte una serie di ragazzi magari anche vicini al movimento underground iniziano a frequentare all'inizio degli anni settanta moltissimo l'india quindi se ne vanno sostanzialmente da quello che poi diverrà l'italia degli anni di piombo aldo piero malli continua a scrivere ma lui già dai primissimi anni settanta si trasferisce in pianta stabile ad amsterdam quindi da una parte abbiamo una diminuzione significativa delle produzioni underground le stesse riviste che prima del 68 avevano una matrice esistenziale letteraria molto significativa spariscono rimangono riviste che magari hanno una marca maggiormente sociologica per esempio e naturalmente l'italia di allora è inondata di riviste di matrice politica questi ragazzi non potevano sentirsi vicini a delle esigenze della gioventù degli anni settanta in cui si discuteva dinamiche e cavilli politici partendo da una da un pedigree da una matrice esistenziale radicale per certi versi i nostri non volevano essere degli scrittori non volevano essere degli agitatori politici puri ed erano di fatto dei veri nipotini di arthur rambò quindi abbracciare la vita e un'introspezione radicale profonda destabilizzante per sé e anche per gli altri però abbracciando la parola una nuova parola significativa e crudamente sincera quel tipo di parola di fatto di matrice esistenziale letteraria negli anni settanta non ha spazio questi ragazzi tornando quello che ho accennato prima si inabissano ancora di più continuano a scrivere qualche libretto con delle poesie anche molto importante loro è pubblicato ancora negli anni settanta però quella risonanza che comunque avevano prima non l'hanno più negli anni sessanta c'erano dei giornali importantissimi che parlavano di loro parlavano per denigrarli negli anni settanta diciamo le esigenze di discutere sono legate ad altri temi anche le esigenze di controbattere degli argomenti sono più legate a dinamiche di matrice politica e non siamo ben lontani dagli interessi da ciò che innervava e animava queste produzioni del 65 66 67 prima ci hai detto che c'è stato un episodio un personaggio in particolare ovviamente fernanda pivano che ha veramente cambiato la storia cioè senza di lei e senza suo operato per quanto riguarda i beat avremmo una storia diversa però ci sono stati però fernanda pivano grazie a dio c'è stata qualcuno ha creduto nel beat prima americano poi italiano che cosa ci hanno lasciato cioè che cosa è rimasto di quella stagione magnifica nel 2023 io credo che ci abbiano lasciato un insegnamento di un altro modo di intendere la parola e la letteratura oggi per esempio vedo che il marketing rispetto a una produzione letteraria il marketing rispetto a una propria poesia a un proprio componimento è più importante dell'opera stessa cioè tutto quello che ha a che fare con il rapporto di vita da una parte fra te e l'opera il rapporto fra te e una tua tribù che ha fatto delle scelte radicali viene messo meno viene messo sicuramente in secondo piano rispetto a delle esigenze di visibilità e quantomeno di giocarsela in un orizzonte di marketing loro ci lasciano un insegnamento in cui anche la parola anche la parola poetica può avere delle risonanze a livello culturale a livello politico nel senso più ampio del termine molto ampia e quanto per essere poeti come questi ragazzi o quantomeno per scrivere degli articoli di riflessione sulla propria vita sul proprio orizzonte che c'è fuori casa ci voglia comunque coraggio coraggio di assumersi le proprie responsabilità e avere anche il coraggio e la serenità di pagarne un prezzo alto pur di non snaturarsi ti racconto un un aneddoto una svela una modalità significativa altamente significativa questi ragazzi non erano interessati a un editore magari anche importante fuori dalla loro cerchia che potesse antologizzarli o quantomeno potesse dare una visibilità la maggior parte di loro si sentiva invasa da figure culturali che non conoscevano il loro orizzonte non conoscevano anche i drammi che avevano dovuto affrontare nella loro vita ma cercava di fare magari cassa o cercare cercava di dare una possibilità di marketing antelitteram a questa modalità di essere scrittori poeti e autori di articoli questo molto significativo oggi quanti di noi rifiuterebbero delle proposte arrivate da altri ambienti culturali proposte significative per avere libri pubblicati avere anche visibilità pur di proteggere una coerenza e anche pur di mantenere la propria libertà di dire esattamente quello che si voleva non a caso in quel periodo vi fu una fioritura importante con dei frutti speciali di case editrici underground per esempio la pitecantropus che gianni milano fondò a torino con altri ragazzi altri poeti loro pubblicarono svariati libretti di poesie meravigliosi però decisero la via della autogestione pur di mantenere di per certo una ampia quota di libertà questo è un insegnamento che oggi necessita grande coraggio credo la nostra situazione ancora più complessa della loro la loro quantomeno era sicuramente più dura però più facile per certi aspetti sapevi chi era tuo amico nel senso ampio del termine sapevi chi era tuo nemico nel senso ampio del termine nemico reale nelle strade e nemico culturale oggi noi viviamo uno scenario molto più caotico quindi credo che per essere uno scrittore con la s maiuscola un poeta con la s maiuscola oggi sia necessario avere ancora più coraggio da una parte ancora più decisione ancora più consapevolezza in qualche modo in qualche modo noi stiamo vivendo dei periodi ancora più drammatici anche se apparentemente molto più zuccherosi rispetto alla loro condizione anche di povertà fisica di incertezze di vita noi non abbiamo più queste due ultime cose che ho citato però le incertezze esistenziali e culturali sono immensamente più ampie io ti ringrazio infinitamente per la testimonianza che ci hai portato qui insomma il fatto da tramite con tanti autori che sono stati grandi protagonisti di quella stagione io continuo a reputare una stagione molto felice che con tutte le stagioni felici eh in me eh è finita però ci ha ci ha lasciato qualcosa come come tu ci hai eh riportato questa sera dunque ehm tempo a nostra disposizione sta per volgere al termine io voglio ringraziarti voglio ringraziare chi è stato con noi questa sera ricordare tutti uccello nel guscio la letteratura beat italiana il testo eh di eh Alessandro Manta autore che abbiamo avuto i nostri microfoni questa sera ed edito da la nuova carne eh edizione Alessandro ti lascerei salutare a tua volta i nostri ascoltatori grazie per questa chiacchierata e grazie a tutti che ci avete ascoltato alla prossima grazie ancora tu sai che i nostri microfoni per te sono sempre aperti quanto a noi ascoltatori ci sentiamo lunedì prossimo beh ancora qui sulle frequenze virtuali di Radio Brown Verox per l'ultima puntata stagionale di Radical Nick Radical Schick sulla bici e io tutti i tuoi Radical Schick sulla bici e io Sei una Radical Schick Nico tu mando pure un coppa a Whatsapp con un vocale Sto romanzo che hai fatto E' una latrina Radical Nick Show Sto romanzo che hai fatto